In un paese in cui il 53% della popolazione associa il termine immigrazione al concetto di criminalità e solo l'8% all'idea di integrazione, l'equazione immigrazione uguale criminalità va superata. Dati alla mano è solo con l'immigrazione irregolare incentivata dalle politiche restrittive degli ultimi anni che i reati commessi dagli immigrati nel nostro paese sono aumentati. Nel rapporto tra immigrazione irregolare e criminalità si è discusso in occasione della 15esima conferenza europea Carriere Legale ed Illegali promossa dalla Fondazione Rodolfo Di Benedetti che si è svolta a Caserta con il contributo di docenti e di istituzioni, presente il ministro per l'integrazione Cecil Chienge che ha chiuso i lavori. Due i report al centro del dibattito realizzati sulla scorta dei dati ufficiali per i bartali trend negativo e la ricetta emersa nel corso del dibattito svoltosi alla regia di Caserta occorre comunque puntare sull'integrazione culturale più che su leggi restrittive.